bene bella a tutti ragazzi e oggi voi ben sapete proviamo di fare una musica allora ovviamente mobile è per samsung non l'ho trovato ma la musica allora trovate questa cosa questa applicazione che si chiama topsy per fare le musiche create da me ragazzi vabbè allora 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 la password password per qui che cazzo è sta cosa topsy music chi cazzo è sta cosa topsy music topsy music ma cazzo ok raga abbiamo attivato che cazzo è una cosa è così è così allora creare creiamo tipo questa musica che si chiama ora ora raga dovrei metterlo scaricare 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 la musica che vorrei creare di questo mondo andiamo subito su qui a mettere subito da mettere questa musica e raga questo era è raga copiamo il link chi è che sta mettendo raga una musica raga che io se volete anche qualche musica c'è anche questo raga che potete ascoltarlo ascoltarlo ho dormito per due anni che ore sono non lo so sono pieno anche meno ho giocato così tanto che ora sono dentro code e mi droppo dove voglio la mia felicità nessuno che mi cerca canzoni nella testa arietta bella fresca viaggio senza gravità mi sembra di volare c'è il mondo c'è il mondo da salvare dai ti devo chiamare e raga questa è una musica calma ci sentiamo alla fine dell'estate certo che mi dispiace Ti amo domani, ti voglio bene, salutami tu, vabbè felicità La mia felicità Voglio perdermi e poi si vedono la mia felicità Amo fare tardi, amo lavorare, non posso lamentarmi in generale Ora sono al centro della capitale, è il mio stato preferito con lo mentale In disordine ed è tutto a posto, ed è bello anche se è contrapposto Come un fulmine in cielo ad accosto La mia felicità È l'ottimo fuggente Baciarsi tra la gente L'amico deficiente Cerco la mia libertà Ho voglia di sbagare C'è il mondo da salvare Dai ti devo chiamare E raga Ci sentiamo alla fine dell'estate Quindi raga, questa è la musica Ovviamente Ascoltatela Questa musica Della mia felicità Di Fabio Robazzi Che Non è tua Immetti di dire le cose Degli altri che sono Ma che dici Andate ad ascoltare la musica di Robazzi Che sta Da questa parte di sopra Per ascoltare La sua musica Raga Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Ciao!